Io segnalo questa situazione di degrado del paese di Colbordolo riguardante in primis dei giardinetti che sono veramente ridotti molto male nonostante tante persone che hanno detto la loro, che sono andate a reclamare in comune e quant'altro, ma praticamente non ascoltano, nessuno ascolta. In secondo c'è l'isola ecologica che vedremo, qui la vedremo, è messa male, è disordinata, è sporca e poi anche il paese stesso è incolto, nel senso che è in degrado. Non c'è quella situazione che fa sì che praticamente la gente quanto viene, il turista, perché ce ne sono molti che vengono soprattutto ciclisti da tante parti dell'urbinate e notano con dispiacere. Notiamo i nostri giardinetti, sono della guerra 15-18 perché ci sono solo due giochi per i bambini e tra cui questi giochi sono praticamente messi molto male, sono rotti, ovviamente il terreno è scosceso, è tutto brullo, bisogna stare attenti a camminarci perché ci sono anche radici di albero che se uno non sta attento fa cadere, le siepi lasciamo le stare perché sono tutte così alla natura, Natur diciamo così e questo è quanto, dispiace questa cosa perché Colbordolo è veramente un paese grazioso. Io ringrazio Rossini TV per avermi ascoltata e spero che la mia voce giunga a chi di dovere, ovviamente per migliorare questa situazione di questo non borgo ma paese qui della provincia di Pesaro.